Sabato 1 e domenica 2 luglio a Francavilla al mare c'è la terza edizione della rassegna cinema e psicoanalisi dedicato al tema Vite al limite nasce l'uomo a fatica. Gli incontri si terranno all'auditorium sirena. Tra gli ospiti della manifestazione sono attesi Marco D'Amore e Francesca Comencini, registi premiati ai nastri d'argento. Il sindaco Luisa Russo annuncia la volontà di confermare il festival nella sua città anche per gli anni a venire. Sarà un modo per affrontare i temi della psicoterapia, della psicoanalisi soprattutto in un'epoca past covid in cui i temi da affrontare sono tanti. Lo si fa attraverso i film, le storie, le trame, i personaggi, le immagini e quindi è una manifestazione di grande elevatura culturale alla quale crediamo moltissimo. Questa edizione si concentra sull'essere umano che a fatica cerca di ricostruirsi ed evolvere sanando le proprie ferite, saldando frammenti di sé e attraversando terre di confine tra passato e presente, tra generazioni che si incontrano e si scontrano. L'idea di provare a rinascere, a ricostruire dopo le macerie di un trauma come quello della pandemia e provando a giocare un po' insieme con il pubblico, creare degli spazi di riflessione per capire come si può rinascere dopo eventi catastrofici. Le relazioni sociali sono diventate molto più fluide, molto più lente e si fa sempre più fatica a impegnarsi in rapporti impegnativi. Una funzione paterna, anche questo sarà tema dell'edizione, di questa terza edizione, una funzione regolatrice all'interno della società sembra essere piuttosto in crisi. L'evento, a ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria, è stato organizzato dall'associazione ASIP. Che noi abbiamo cercato di mantenere sin dalla prima edizione è proprio quella di stabilire un dialogo anche tra gli ospiti e il pubblico in sala, come è successo in particolar modo l'anno scorso con la visione dell'Arminuta e la presenza di Donatella di Pietrantonio. Quella in particolar modo è stata per esempio una serata veramente emozionante perché le persone si sono alzate anche per raccontarsi dopo il film. All'iscrizione, sono quasi sicura, partirà da oggi, si potrà fare tramite billetto.it e si accede gratuitamente.